salve a tutti sono micweb e sono di nuovo qui per un tutorial di wordpress ok mi sono già logato sul dashboard e oggi diamo un'occhiata agli utenti come molti altri sistemi wordpress permette di aggiungere utenti adesso vi andrò a spiegare il ruolo degli utenti per quale motivo si possono aggiungere degli utenti adesso sono logato come micweb sono l'amministratore qui sono tutti gli articoli aggiungo un nuovo articolo per farvi vedere molto veloce utente esempio giusto per intenderci questo è solo solo un esempio giusto per dare un'idea dell'articolo lo pubblico ok adesso andiamo a vedere sul sul sito ho cambiato anche il template pagina d'esempio la mia pagina d'esempio sono dove gli articoli eccolo qui l'ultimo articolo che ho pubblicato 9 novembre la sera eccolo qui come vedete c'è il nome dell'utente che sono io sono l'autore di questo articolo ho già pubblicato sei articoli ve lo spiego perché ha una rilevanza per quello che andrò a farvi vedere ora a questo punto andiamo sul menu appunto utenti tutti gli utenti avevo già aggiunto un nuovo utente nome tutorial per esempio quando cancelliamo gli utenti presenti mi viene chiesto cosa deve essere cosa deve accadere con il contenuto di questo utente che sto per cancellare nel mio caso ho selezionato che i contenuti vengono rescriti come un altro utente lo spiego dopo di nuovo bando alle ciance aggiungo aggiungo un nuovo tutto un nuovo utente di nome tutorial l'email è obbligatoria mettiamo questo interesse mail tutorial www.micweb.info nome e cognome sito password come ho già detto altre volte una password così non me la ricorderò mai quindi c'è la possibilità di gestirsi una propria password è quello che sto facendo in questo momento genero una nuova password devo confermare la password che ho selezionato è debole adesso seleziono che tipo di utente voglio generare ok ho scelto editore adesso mi vado a sloccare mi slogo di nuovo lockout e mi logo con il nuovo utente che ho appena creato il nome utente era tutorial la password che posso terra tu ecco non la dico comunque tutorial 123 semplice da ricordare è solo per esempio a questo punto vi faccio vedere cosa vedo nella nostra bacchica come vedete c'è le articoli commenti e nient'altro e le pagine come utente che ho selezionato posso aggiungere una nuova pagina sono un utente editore quindi posso aggiungere nuove pagine anche se c'è un ma che adesso vi spiegherò pagina test utente questa questo è solo un esempio un test un test pagina pagina utente qui posso selezionare se adesso ha lasciato pagina la pubblico adesso andiamo sul visualizziamo il sito e andiamo a cercare la nostra pagina come vedete la pagina che ho appena creato con diciamo i permessi di editor non è presente andiamo a vedere se posso aggiungere la pagina che ho appena creato su un nuovo menu come vi spiegavo nei tutorial precedenti ogni volta che creato una nuova pagina deve essere assegnata a un nuovo menu in questo caso non è possibile con i permessi da editore posso modificare tutti gli articoli come vedete posso aggiungere un nuovo articolo lo faccio vedere utente articolo prova prova articolo aggiungo un file un'immagine andiamo a cercare un'immagine che ho già caricato in precedenza prendo una prendo un'immagine a caso una diversa dal solito se no questa era l'immagine in evidenza vi faccio vedere cosa vuol dire immagine in evidenza adesso scelgo la stessa immagine la aggiungo sull'articolo inserci all'articolo ok a questo punto pubblico il nuovo articolo adesso andiamo sul nostro sito visualizziamo il nostro articolo i miei articoli vengono visualizzati sulla pagina di esempio l'avevo impostata così questo è il nuovo articolo che ho fatto qui l'immagine di evidenza e l'immagine dell'articolo sono due immagini diverse la data e qui il nome utente il nome utente è tutorial il tutorial ha già la bellezza di un articolo pubblicato wow il nuovo utente che ho appena creato è molto molto impegnato a pubblicare gli articoli adesso andiamo a vedere qui su su tutti gli articoli tutti i micweb e poi ce n'è solo uno da tutorial come vedete posso gestire i commenti le pagine come vi dicevo prima le pagine però non posso assegnarle ai menu quindi posso gestire le pagine però non posso pubblicarle in poche parole non so se ha molto senso però insomma adesso mi logo di nuovo come amministratore per comodità andrò a modificare i permessi dell'utente avrei potuto cancellare e aggiungere un altro utente però modifico come vedete si può modificare direttamente il tipo il permesso il ruolo dell'utente lo metto come sottoscrittore e adesso vediamo la differenza che abbiamo mi logo mi logo mi slogo mamma mia non si vuole slogarsi e dai eccomi qui mi logo come tutorial qui posso personalizzare i dati del mio utente aggiornare il mio profilo come vedete qui sulla bacheca sotto scrittore non può fare niente non può fare una minchide niente quindi è un ruolo che non ha senso perché come vedete mi posso leggere gli articoli e basta quindi se dovete aggiungere un utente sottoscrittore non sa fare nulla quindi è un ruolo che non ha senso secondo me gli occhi ecco dai quindi passiamo adesso mi sloggerò di nuovo perché questo ruolo questo tipo di utente non non ha nessun potere non può modificare gli articoli li legge solo e basta quindi mi slogo di nuovo e andiamo a vedere cosa che tipo di ruolo possiamo aggiungere vado sempre su utenti quindi modifico per comodità l'utente che ho già da sottoscrittore lo passo adesso collaboratore e andiamo a vedere che poteri che permessi ha l'utente collaboratore mi sloggo come sempre mi riloggo come tutorial come vedete qui ho di nuovo più possibilità posso aggiungere articoli tutti gli articoli come avete visto gli articoli che riesco a vedere riesco a vedere tutti gli articoli però non riesco a modificare gli articoli del amministratore faccio di nuovo vedere l'unico anche l'articolo creato in precedenza non riesco a modificare prima avevo creato un articolo con il ruolo di editore non riesco a modificarlo posso in questo caso come vedete aggiungere un nuovo articolo utenti collaboratore scrivo qualcosa guardate qui non posso aggiungere nessuna foto se utilizzo questo collaboratore il collaboratore può solo scrivere non può aggiungere nessun nessun file quindi direi che anche questo ruolo è anche un po' direi limitativo non so nella praticità a che senso ha comunque voglio spiegare tutti i ruoli che ci sono su wordpress è chiaro che se siete un gruppo di più persone che gestite un wordpress una pagina internet ha senso che ognuno si occupi del proprio campo ad esempio se parlate di computer uno si intende di windows un altro collega si intende di mac è chiaro che scriverà articoli riguardo al mac e non riguardo al windows quindi ha senso avere più utenti in modo che ognuno se una pagina di gruppo abbia la possibilità di pubblicare come avete visto qui collaboratore non ho pubblicato l'articolo lo posso dare solo come revisione vuol dire che il collaboratore può scrivere ma prima che l'articolo sia disponibile online deve essere visualizzato da un amministratore o da un editore come vedete posso darmi l'anteprima è in attesa in attesa vuol dire che deve essere approvato dall'amministratore dal utente editore e dal prossimo utente che andremo a vedere quindi collaboratore può scrivere gli articoli in back-end li può vedere come saranno però non sono veramente online adesso andiamo vi mostro l'ultimo utente che è rimasto come avete capito qui cancello e adesso mi sembra che sia rimasto solo l'autore 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 non l'ho ancora fatto vedere vediamo che tipo di permessi ha l'autore mi slogo un attimino mi slogo mannaggia non voglio mai slogarmi nome utente è sempre il solito tutorial a questo punto a questo punto vado mi guardo un attimo la mia bacheca non ho ulteriori funzioni posso andare a dare tutti gli articoli posso modificare gli articoli che ho fatto dai precedenti utenti vado a dare tutti gli articoli non posso cambiare o editare gli articoli fatti dall'amministratore posso essendo autore modificare come dicevo gli articoli di altri utenti in precedenza che vi avevo mostrato posso aggiungere le foto aggiungo un'altra foto per se no non ci ci intendiamo prendo questa la inserisco nell'articolo quindi ho il potere di modificare e di pubblicare articoli fatti da altri utenti di livello inferiore andiamo a vedere andiamo a vedere se questa volta l'articolo è online pagine di esempio dove sono tutti gli articoli eccolo qui qui è il nuovo articolo questo è l'ultimo articolo che ho fatto aveva senso se ogni volta cambiavo il nome dell'utente comunque spero di essere stato chiaro come funzionano i ruoli degli utenti insomma altrimenti provate una spiegazione giornale di come su wordpress a seconda del ruolo gli utenti possono o non possono pubblicare gli articoli possono aggiungere le foto possono aggiungere le pagine le pagine le pagine non possono essere comunque pubblicate spero di essere stato d'aiuto con questo tutorial aggiungo un nuovo articolo visto che sono autore scrivo ancora qualcosa vi ringrazio per la visione spero di essere stato utile con questo semplice tutorial di wordpress come dicevo è interessante se avete una pagina internet comune e volete che ognuno pubblichi articoli sul proprio interesse come dicevo qualcuno si interessa solo di windows scrivere articoli su windows un altro collega un amico si intende di mac scrivere articoli su mac in modo da riempire molto velocemente il vostro sito internet è interessante se siete una comunità e ognuno volete dare dei poteri di diciamo riempire la pagina internet è una bella possibilità di fare un progetto comune insomma solo l'amministratore può come vedete a tutti i poteri può aggiungere cancellare l'utente come dicevo prima cancello l'utente quando ho cancellato un utente vi chiede cosa faccio con gli articoli di questo utente cancellare tutto il contenuto oppure assegno tutto il contenuto all'unico utente che è rimasto che è l'amministratore in questo caso conferma la cancellazione adesso vado di nuovo su articoli tutti gli articoli come vedete tutti gli articoli hanno come autore mic web che sono io l'amministratore in questo caso quindi l'amministratore può dire ok ragazzi muovete roto grazie che avete lavorato per me vi cancello e io mi prendo i vostri le vostre idee non è molto bello va bene spero di essere stato utile oggi vi auguro una buona giornata ci vediamo con il prossimo tutorial ciao alla prossima grazie a tutti